Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo Un buggato di Giorgio Gio ha buggato Ah, ora va Perché si era buggato? E oggi ci troviamo Ma la bandi può fare il compleanno Tanti Vabbè Non è che le devo fare gli auguri Non è che le devo uscire perché le voglio fare un attimo gli auguri Non posso fare gli auguri E mettiti i papagalli Non ho ragionamento su Tim Vabbè scusatemi ragazzi Bene, comunque te le rifaccio gli auguri Tanti auguri Vabbè Oh, brava bandi che ha compiuto due anni E ti ha regalato nuove cose Il ciuccio Eppure Qui si chiama Il La culla E il pazzo in giro Da sto scherzo Comunque ho fatto un video con mio fratello E con Come si chiama Con il mio amico Se volete Se volete entrate su Millebrother Nel canale di mio fratello Dove abbiamo fatto i pazzi Scatenati un'ora Anzi In verità È nove secoli Ovviamente C'è il fratello di Londra Come stai Fratello di Londra Anche tu Come stai Londra Non so perché C'è un personaggio Rivali Che si chiama Londra Ma è questo Dove metto Il coso Cioè vedete questi qua Perché hanno tutte e due La faccia grande Si capisce Invece sulla Sulla media Quello La piccola E la grande C'è Londra E la grande In ogni mod A Londra Il suo fratello Gli cambiano la faccia Cioè la dimensione Piccolo Grande Non ci credo Bene Comunque Tanti agudi Balvi Ciao Perché E l'abbiamo E l'abbiamo E l'abbiamo Se ero io Lo facevo Con la musica Di Averis Che Christmas Che nessuno La conosce E solo Alcunissimi La conoscono E l'abbiamo E l'abbiamo E l'abbiamo Sì Sì Però è troppo Baggato Ragazzi Vedete Che è troppo Baggato No C'è Sono Mere Perché Perchè Quello Borg Sotto Devo Quello Così Sotto Perché Quello Borg Sotto Devo Quello Così Sotto 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 Ora Mi riparte Di nuovo Con la Mocita Perché Si Non Borg Sotto Si Gette Sotto Sotto chi mi ha portato quello ciccione di nuovo che nessuno che vuole governare tu non puoi governare vabbè ti dico io e così non mi blocchi se non mi metti il pago di merda è niente ma fatti i cazzi tuoi sì però speriamo che non si cacchia non spetta il cuorello adesso non lascio il nostro teorello non spetta ragazzi non spetta il mio fratello di quello di Elra non shake noi dobbiamo shakerare vedi te lo dice perché dobbiamo inserire shake perché ci rompe le mani ce le fa male non shakerare shakerando shakerando poi perché siamo i testi in giù vallepazzo il suo compleanno no cacchio e amen amen che ti ho preso non mi raccomando non ci siamo i testi in giù ma le non non ci siamo i testi in giù ight pistangono se volete mi mette il link in descrizione solo che in quello dell'altro modo non ci sono riuscito ovviamente non è da android perché alcuni youtuber possono mettere da android tranne io si guarda ovviamente si è messa vedi comunque merindus e merindus è questa che sono i miei preferiti è che non ovviamente è preferito posso fare che sia bagunque? non, questo è tapo-tapo che devo prendere ok, zetteremi dai e dammi alcune lettere su ah mi fa muovere però grazie aspetta ti teletransporta non 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 comunque guardatevi il video ciao ragazzi non 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 non